Aspetta aspetta, prima di iniziare ci tenevo a ricordarti una cosa, nei video di scheggia non vengono recati danni ai luoghi esplorati Ciao a tutti ragazzi ed eccoci qui in questo nuovo video Sono tornato a casa e non c'è cosa migliore che esplorare con le mie due bestie umane Romance e Arezzo Ciao ragazzi Oggi ci troviamo in una casa molto piccola ma allo stesso tempo molto inquietante Che portai qualche anno fa insieme a lui come speciale di Halloween Questa si è apprezzato? Questa faccia come qua dentro fa tantissimo ragazzi Infatti con sto caldo la casa non poteva che non chiamarsi la casa del diavolo Perché casa del diavolo bestia? Perché? Allora intanto non so se non vi ricordate l'altro video ce la siamo vista molto a quel giorno In descrizione? Comunque si narra che in questa casa ci ha abitato per tanti anni una persona che era fanatico di satana di satanista Quindi c'era tutti i quadri particolari, tutte le foto strane, tutti i libri esoterici Anche se noi sinceramente qua non ci abbiamo mai trovato nulla Ci hanno staccato tutto dalle pareti Ci è rimasto soltanto qualche quadro E non è esoterico E anche i libri Ora daremo un'occhiata più da vicino Però non ci sono invece niente video Comunque spero di rendervi un buon video Spero che il luogo sia di vostro cadimento E questa è la prima volta a noi quindi E infatti Buona sudata Buona sudata Dopo la E' importante Allora è importante Che cos'è qua? Avvolgere il bisogno nel mondo concreto Quindi è indispensabile C'era impugnatura delle forbici Ma che significa questo? Uo Che è successo prima? Ragazzi guardate qua ci sono dei Viene di smutto Lame Occhiello Branche Siamo tipo delle forbici Sì sì sono forbici Sono forbici C'è di quanto dice annullare e pollice Sembrano degli appunti Su come usare delle forbici Sì sulle persone Sulle persone Oh madonna Aspetta un attimo Che cazzo? Guardate qualche medico che opera Guarda qua Quello è un volto praticamente Ma le fasi di separazione I capelli competono in modo No forse roba di parrucchiere Sì a sto punto sì E me lo addesi i tempi Che pozza puntagli Sì comunque Tipo il satanismo che ti hai spiegato Come fanno la procedura Di quei gli arcani Si regalo Posizione delle mani Per tagliare i capelli Usando forbici e pet E che ne sai che poi Vedi l'ultima pagina Questa che ti spiega Tipo aprire il cranio E giucciare No Tra queste c'è stato Quello che c'è mania sua Questo è un'articolare Che c'è sta bestia? Allora ragazzi Mi sblocco un ricordo L'album panini dei Simpson E qual era la particolarità La particolarità Sicuramente molti di voi Quelli un po' più grandi I ricercilli si ricorderanno Copriamo il nome Vediamo se le troviamo Ecco Erano queste qua ragazzi Praticamente Vi ricordate? Si grattava E poi odoravi E usciva fuori L'aroma Il profumo Era una figata Io da piccolo Sono andato a mano Quindi Ricordiamo un attimo Di che classe sei Così magari Trovi qualche schifo Forse è un primo classe 1901 Quindi magari ragazzi Che anno è questo qua? Gira un po' Gira tu Fre Magari dovrebbe Sta scritto dietro O qua Inizio 2000 Si pure secondo me Comunque inizio 2000 Allora lire 3000 lire Quindi già le faccio 3000 lire Pubblicazione 1999 Eh ci stavo qua È del 1999 Non muovo E là Raga intanto Dentro sti cassetti Troviamo Tante di quelle riviste Cry La Cry Le Cap Troviamo Troviamo tutto Il maestro Di tavola So tutti i libri Comunque Secondo me Molto particolari Sono quaderni Là ci sono degli appunti Credo personali Questa Sembra molto Roba di scuola Comunque Non vorrei dirvi Cambiate qualcosa La macchina Che non hai Prego Ma questi Sono sedili? Si E se pensite La macchina Di fuori E questi si sono Sedili Non mi sono Guardate Guardate Quali fratte Che 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 Piemono Cioè praticamente Se lascia la finestra aperta Adarriva un PJ Selvatico Dentro Ma è vuoto Ma è vuoto Ma è che si alza Sto coso Ehm Qua è No ragazzi Non c'è san cazzo E' vuoto E' vuoto E' vuoto E' vuoto E' vuoto E' vuoto Se non potremmo qualcosa No Con le mani no Ma lo c'è Oh ma c'è la legna qua Sembra la scorta Per l'inverno Macchine Ok Ok questo Questo dovrebbe essere un problema Questo è un problema Questo è un problema Regà Allora è vero Non è vero Certo comunque è un po' contraddittorio E del diavolo dovrebbe essere al contrario Però comunque Ma è alta come me sta cosa tra l'altro Cioè Oh Regà Di più E' piatta di me sta croce Ma lei che ti vuole fare Come si dice Caccia tutto Regà Il male Ti 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 velegno C'è C'è classici facendo il fuoco Cioè Sì C'è classici Magari gli evo che lo dà fuoco No ma che cazzo Che fuoco gli dai Gli dà fuoco gli evo Quasi Sì Sì Stai chiede aiuto Ma che è I tamburi Ma sono tamburi Guarda che è trovato bestia Cazzo È vero Sei 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 Con la croce Il cavo Al contrario Che è il classico segno del demonio Il richiamo diciamo di satana Ragazzi mi sta scaricando la batteria Ma com'era carica Oh guarda Lasciate Ogni speranza Ogni speranza Stai scaricando la batteria ragazzi Che hai trovato Questo posto è una merda Lasciate ogni speranza O voi che entriate Ovviamente scritte no vecchie Di più Perché c'è Tutti scoloriti Questo posto è veramente una No ragazzi Comunque io direi da no Perché la batteria si sta scaricando E il led della torcia è rosso La torcia pure si sta per spegnere Andiamo Andiamo